Una comunità che si unisce per pregare e per ricordare chi ha perso la vita nelle buie settimane di pandemia. Un'occasione per sentirsi uniti anche nel dolore e per chiedere a Dio la forza per continuare nell'assistenza e nel servizio. Questo è il significato della Santa Messa presieduta nella chiesa parrocchiale di Villa Bartolomea, là dove il Covid ha lasciato una lunga scia di lutti, soprattutto all'IPAP Maria Gasparini, dove da 68 ospiti oggi se ne contano una trentina. La casa di riposo è stata colpita dal coronavirus, secondo le modalità che abbiamo accompagnato, visto e conosciuto anche attraverso i mezzi di comunicazione. Da metà marzo sono venuti a mancare 40 ospiti della casa di riposo, certo non tutti a causa del coronavirus ma tutti dentro questo contesto. sicuramente quello che fa soffrire oltre alla morte è anche non poter seguire da vicino con un momento di saluto, di vicinanza, una carezza, uno sguardo, poter seguire e vivere questi momenti. La celebrazione e la presenza del pastore della Diocesi ha anche il sapore di un nuovo inizio, dove, come afferma lo slogan coniato dalla Diocesi, andrà tutto nuovo. Penso che il lemma di andrà tutto nuovo, che vuole portare più in là, l'andrà tutto bene, è un lemma, una parola non solo di speranza, ma si fonda nella fede, che Dio ci aiuta a costruire cose nuove. E allora la presenza del Vescovo insieme del pastore, insieme alla comunità cristiana, nell'ottica di far crescere questa fede, e non solo far ritornare le cose che c'erano prima, ma di far nuove le cose imparando dal dramma che abbiamo vissuto. Speriamo che si possa presto ritornare a una vita normale, con la coscienza di un'umanità nuova, di relazioni nuove, proprio perché abbiamo imparato da ciò che abbiamo vissuto.